La risposta del sindaco di Modica in merito al nostro allarme sul tentativo di privatizzare l'orto del piombo dimostra la debolezza e l'isolamento dell'amministrazione comunale. Sono le dure parole riportate oggi in una nota ufficiale dal consigliere di Selvito D'Antona. La netta opposizione alla concessione dell'aria in corrispondenza della scalinata che conduce al Duomo di San Giorgio e la difesa della fruizione interamente pubblica del sito è oggi ampiamente condivisa da tanti cittadini. Secondo quanto riporta il consigliere della minoranza, il sindaco Abbate, non ha sottolineato come ben nove consiglieri comunali quasi un terzo dell'intero consiglio comunale abbiano firmato e depositato una mozione di indirizzo finalizzata a bloccare la procedura di privatizzazione. L'orto del piombo, l'intera scalinata di San Giorgio e il Duomo rappresentano un contesto monumentale unico e irripetibile la cui fruizione pubblica non può essere messa in discussione da nessuna amministrazione appartenendo all'intera collettività e al patrimonio mondiale dell'umanità. I problemi di cura, di manutenzione, di tutela costituiscono un dovere primario di qualunque amministrazione che non si può tirare indietro. Governare una città bellissima e complessa come Modica non è solo luminarie e sagre comporta un impegno sociale non indifferente, tuona D'Antona. Ci appelliamo alle forze politiche, ai consiglieri comunali, ai sindacati, alle associazioni di categoria, agli operatori turistici, agli operatori culturali e ai singoli cittadini che amano questa città e le sue bellezze per fare sentire la loro voce e abbattersi per mantenere interamente pubblica e decorosa la fruizione della scalinata e del Duomo di San Giorgio, meta ogni anno di migliaia di visitatori.